Comincia a prendere quota il mercato del Catania. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha chiuso per Filippo D'Andrea dall'Odo a Cicerignola. L'attaccante è stata la sorpresa dello scorso campionato con 15 gol realizzati in 37 presenze. Faggiano ha lavoro per consegnare a Mimmo Toscano una rosa capace di vincere il prossimo campionato. Il club Etneo è in pressing per l'ex Avelino Sufiam Bidawi che ha giocato nell'ultima stagione in massima serie con la maglia del Frosinone. Mamadou Canuté non è più un calciatore del Taranto. Il Trapani ha pagato la clausola recissoria pari a 65.000 euro assicurandosi le prestazioni dell'attaccante senegalese. Canuté si è legato al club siciliano firmando un contratto biennale con opzione. Dopo diverse stagioni in chiaroscuro l'ex Avelino si è rilanciato proprio alla corte di Ezzolino Capuano. Il rosso-blu ha collezionato 42 presenze tra campionato, play-off e Coppa Italia segnando 13 gol. Nel frattempo i siciliani hanno chiuso anche per Diego Zuppel della Cireale. L'attaccante 21enne ha segnato 7 gol nell'ultimo campionato di Serie D. La Zb Cerno ha ingaggiato Antonio Energe, attaccante classe 2000, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Energe proviene dall'Ancona, con cui ha messo a segno 5 gole nel corso dell'ultima stagione. In Latina, dopo i barame intorno a Gaetano Fontana, lavora su tre fondi per la panchina. Tra i profili sondati ci sono Ivan Tisci, Greco e Volpe.